Voilà! Oggi vedremo insieme la terza maglia del Boca Junior per la stagione 22-23, nella versione FAN. La terza maglia da calcio Boca Junior 2022-23 è giallo-blu, ispirata alla maglia del 1985. La terza maglia dell'Adidas Boca Juniors 2022 è dotata di colletto tradizionale. L'eccezionale caratteristica di design della terza maglia è una stampa sottile ispirata agli anni 90 e ha il famoso cartello Boca che si trova sopra i cancelli di Casa Amariglia. Sul retro, sotto il colletto, è presente la scritta Casa Maria, in italiano Casa Gialla. Casa Maria si trova alla Ribera, vicino alla Bambonera. È un luogo dove si allenano le divisioni giovanini del Boca Junior e talvolta anche la prima squadra. Il nome ufficiale è, complesso, Pedro Pompilio. Il giallo è uno dei miei colori preferiti e questa maglia, secondo me, è veramente ben riuscita. Nella mia classifica prende 4 stelle e trovate, tra l'altro, qui in alto il prezzo che include le spese di spedizione, è veramente un prezzo bassissimo e vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia, ma soprattutto anche dei link per avere un buono di 5 dollari, quindi il costo diminuisce ulteriormente. La maglia è stata consegnata in un tempo velocissimo, è arrivata in 16 giorni e è fatta veramente bene, è confortevole, perfetta in tutti i dettagli. Ora, prima di lasciarvi, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti!